Obiettivo localizzato. Luce verde. Attacco. Abbiamo assicurato. Abbiamo assicurato. missione compiuta tutti i nemici sono stati eliminati obiettivo localizzato luce verde attacco sottotilo bomba in buca sconfitto carica sconfitto carica sconfitto carica sconfitto carica sconfitto carina mercolatica Grazie a tutti. Passione fallita. Le nostre unità sono state eliminate. Obiettivo localizzato. Luce verde. Attacco. Bomba in buca! Bomba in buca! Getta la bomba! Carica! Uovo catturato! Getta la bomba! Getta la bomba! Getta la bomba! azione fallita le nostre unità sono state eliminate obiettivo localizzato luce verde attacco go scotch bomba in buca carica non ma non ma non ma Abbiamo assicurato l'obiettivo. Comprimi, sto caricando! La missione è fallita. Le nostre unità sono state eliminate. Obiettivo localizzato. Luce verde. Attacco. Comprimi, sto caricando! Confitto. Comprimi, sto caricando! Comprimi, sto caricando! Abbiamo assicurato l'obiettivo. La missione è compiuta. Tutti i nemici sono stati eliminati. Obiettivo localizzato. Luce verde. Attacco. Bomba, al riparo! Getta la bomba! Bomba in buca! Bomba in buca! Bomba in buca! Getta la bomba! Bomba in buca! Abbiamo assicurato l'obiettivo. 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 Grazie.